Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una coppia di coniugi andriesi. Lui, 67enne, volto noto alle forze dell'ordine, lei, 62 anni, incensurata, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Andrea. I militari, con l'aiuto di un'unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Mudugno, nell'ambito di uno specifico servizio, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione della coppia, scovando nel termosifone della camera da letto un involucro contenente 29 dosi di cocaina, pari a circa 10 grammi, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Nelle tasche della donna, invece, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 400 euro, ritenuto provento delle illecite attività. Tratti in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. È stato arrestato e trasferito nel carcere di Trani, invece, un giovane di 21 anni, di Barletta, ha ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno intimato l'alta al 21enne alla guida di un ciclomotore. Il giovane, pur di sottrarsi al controllo, ha preferito scendere dalla moto in corsa e di leguarsi a piedi, dopo averla lanciata contro i militari. Il tentativo di fuga, però, è durato poco. Il giovane è stato subito dopo bloccato e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 320 euro, oltre a due telefoni cellulari. Il 21enne è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Trani. La droga, i cellulari e il denaro sono stati posti sotto sequestro.